Siamo in Area Docs, a Brescia, oggi la finale del premio Cambiamenti, un percorso iniziato a luglio in Lombardia che ha portato quasi 170 imprese ad iscriversi al premio. Questa sera in 12 faranno un pitch, racconteranno la propria impresa e la propria idea innovativa che hanno lanciato già sul mercato o che invece sono prossime a lanciare. Da lì un percorso che selezionerà tre imprese grazie a sette giurati che andranno a Roma alla finale nazionale. Siamo felici di essere qui, siamo felici di essere a Brescia, una realtà viva, imprenditoriale, attiva, piena di innovazione. Questo è quello che cerchiamo, artigiani che abbiano voglia di innovare nella continuità delle tradizioni. Questa è la nuova CNA Lombardia.